E dopo il grande successo del video in cui ho dimostrato che 2 più 2 non fa 4, signori, oggi vi dimostrerò che la Terra è piatta. Sì, perché la Terra è piatta. Ci hanno sempre mentito quei... quelli della NASA, ci hanno sempre mentito, ci hanno. Per tutte le persone che pensano che questa viceria qui sia falsa, ovvero che la Terra non è piatta, vi dimostro una cosa molto semplice che tutti facciamo ogni giorno. Prendiamo una bottiglietta d'acqua, la apriamo, e se la Terra fosse rotonda, l'acqua scendendo dovrebbe fare un giro. Invece no, l'acqua, signori... Scende e si ferma così, perché la Terra è piatta. Perché l'acqua, quando io la verso per Terra, non inizia a muoversi, visto che la Terra è rotonda? No, signori, la Terra è piatta, per questo l'acqua rimane ferma. Il vincitore di questo video oggi, che ha ricevuto un euro, sì, perché d'ora in poi, per ogni video che posterò, sceglierò una persona tra le persone che sono iscritte sotto e gli regalerò un euro. Sì, signori, un euro. E il vincitore di questo episodio è Luca Bardella. Ho visto tra gli iscritti, gli ho dato un euro, l'ho contattato su Instagram, e niente, adesso è più ricco di un euro. E per le persone che hanno ancora il dubbio del fatto che la Terra non sia piatta, ve lo dimostrerò con un disegno. Questo qui... Questo qui sono io. Una persona con delle mani, delle braccia e degli occhi. Questa persona qui prende l'aereo. Questo qua sarà l'elicottero. Allora, non è un elicottero, però facciamo... qua ci sono le eliche. Facciamo finita che questo qua sia un elicottero. Io prendo l'elicottero, volo, ma io quando volo... perché vado dritto e non vado così? Io quando volo mica faccio questa cosa qui. Io non faccio così. Io quando volo, volo dritto, signori. Questo vuol dire che la Terra è piatta. In questo disegno ho dimostrato che la Terra è piatta, signori. Dimostrerò ancora una volta che la Terra è piatta utilizzando Johnny, signori. Questo qui è il famoso Johnny, che non trovavo perché era nascosto. Allora, Johnny... È questo. Questo qui è Johnny. Questo qui è la Terra. Johnny si trova in questo punto della Terra. Se Johnny volesse andare in questo punto... Perché se la Terra è rotonda Johnny non cade nel vuoto e va nell'universo? Se la Terra fosse rotonda Johnny da qui prende l'aereo a qui e poi appena sceso cadrebbe nell'universo, no? Johnny non cade. Nessuno cade. Sapete perché? Perché la Terra è piatta. Il video si conclude qua. Io adesso nei commenti vi chiedo per favore di scrivermi qualcosa da stampare. Si spenderò un botto di soldi in cartucce per la stampante. E voglio che voi in sotto mi schienviate qualcosa da cercare su Google. E poi io le stamperò. Sto muro qua, signori, che è bianco. Troppo bianco. Appiccicherò tutte le cose che voi mi direte da stampare. Quindi se volete che io stampi un baby Yoda, lo stampo e lo attacco. Se volete che io stampi un coccodrillo, una mela o una pera, l'attacco. Nei commenti. Lasciate like e iscrivetevi.